Mary, parti tu io avrei un sacco di domande però ne devo fare allora no, volevo dire una cosa esiste un movimento che adesso vabbè è attivo però avrebbe bisogno di un po' di supporto di ulteriori forze che si chiama Debitò è un po' la persecuzione del lavoro che aveva fatto Assemblea 21 non so se ne avete sentito quindi chi volesse che fosse interessato all'aspetto del debito del comune ci sono stati dei movimenti che si sono occupati c'è molto materiale sul sito di Assemblea 21 perché si trova tutto su web quindi in teoria Debitò è ancora in vita bisognerebbe farlo vivere ancora concretamente allora io volevo chiedere un accenno a un approfondimento sui laboratori di urbanistica se poteva farlo dopo poi un'altra domanda sul che esito hanno avuto altre esperienze in cui l'audi del debito c'è stato si è concluso comunque se il percorso quel percorso che sono andati avanti come a cosa hanno portato se hanno portato qualcosa un'altra domanda era se le piattaforme digitali per la raccolta firme a livello comunale ad esempio delle delibere di iniziativa popolare il fatto cioè sono obbligatorie il comune è obbligato a perché avevamo avuto un'esperienza simile per la prima delibere di iniziativa popolare che ha fatto Salviamo i Prati in cui il comune ha concesso questa cosa con fatica e all'ultimo momento ma la stessa cosa sta succedendo nel comune di Milano per cui so mi so come una delle cose su una delibera e il comune non mette a disposizione la piattaforma per la firma digitale cosa che escluderebbe un po' di cittadini tipo quelli che non possono uscire di casa o e questo poi quarta domanda già che ci sono io metto poi lei veda cosa ne pensa delle consulte le consulte ambiente verde e le consulte sulla mobilità che ci sono nel comune di Torino questo è il caso nostro se pensa che siano cioè quale quale giudizio ha concretamente sul fatto che siano in realtà opportunistiche per il comune che poi può dire abbiamo interpellato i cittadini e le associazioni in quel caso oppure se in realtà è uno strumento un istituto che può aiutare a stare dentro le istituzioni non so dal tuo punto di vista sì allora parto dalla materia che conosco meglio che è quella dell'introduzione dei percorsi partecipativi all'interno degli interventi di riqualificazione urbana o come dicevamo prima i laboratori di urbanistica allora le materie iniziano ad essere concretamente strutturate intorno alla seconda metà degli anni 90 quando si sono strutturati soprattutto a partire dalle esperienze francesi i filoni di finanziamento di scala europea sulla riqualificazione in partenza degli quartieri di edilizia residenziale pubblica poi anche di ambiti delle città dove erano più evidenti fenomeni di emarginazione vuoi fisica vuoi sociale poi normalmente la periferia fisica si congiunge ad aspetti di periferia sociale quindi normalmente c'è una coincidenza nasce in Francia l'esperienza di Cartier-Ancris che dà vita ai contratti di quartiere i contratti di quartiere vengono adottati dal Ministero dei Lavori Pubblici del Governo Italiano e attraverso finanziamenti in parte dei residui fondi GESCAL in parte finanziamenti finalizzati al recupero urbano anche il Governo nazionale propone alle amministrazioni comunali gli strumenti di contratti di quartiere per i quartieri di edilizia residenziale pubblica parallelamente l'Unione Europea avvia i primi programmi urban che hanno una possibilità di ampliamento degli interventi sullo spazio fisico maggiore quindi non finanzia esclusivamente il recupero strutturale delle case popolari degli edifici di residenzialità pubblica ma anche gli spazi pubblici comuni e il filo comune il filo conduttore di queste esperienze è quello dell'introduzione del coinvolgimento diretto degli residenti all'interno della costruzione dei progetti di riqualificazione urbana gli esempi quartiere Zen Palermo Rione Sanità Napoli Via Arquata Torino Progetto Urban Mirafiori Borgocina alcuni esempi più più noti sono questi cosa ha voluto dire nell'esperienza torinese provare a praticare la partecipazione dei residenti nel momento in cui avviavi i programmi di riqualificazione urbana intanto ha voluto dire introdurre in anticipo e immagino anche con forme diverse uno di quei uno di quei principi e di quelle modalità che oggi vengono molto richiamate cioè lo strumento della coprogrammazione nel contesti locali interessati da questi processi di riqualificazione urbana si è cercato di attivare la realtà sociale per come era organizzata in quei luoghi quindi dai comitati degli inquilini dei quartieri dell'edizia residenziale pubblica alle rappresentanze religiose di quei quartieri alle organizzazioni di volontariato di quei territori ai professionisti dei presidi pubblici presenti quindi le scuole i servizi sanitari i servizi sociali le reti che come terzo settore agivano in quei contesti per costruire con loro dei momenti di definizione del tipo di progetto e del tipo di intervento ora si introduce qui un aspetto che io non ho nominato che è molto presente nei percorsi di democrazia deliberativa ed è quello secondo il quale quando i percorsi vengono attivati da un livello istituzionale questi sono i casi perché è il livello istituzionale che riceve i finanziamenti è il livello istituzionale che ne risponde e che ne deve garantire la realizzazione la domanda conseguente è chi cura il momento della partecipazione dei soggetti che abbiamo individuato e che peraltro abbiamo individuato in una modalità che non è definita una volta per tutte perché il percorso è aperto e i soggetti possono aggregarsi durante l'itinerario e qui si introduce il tema se esista o non esista una competenza professionale nei processi partecipativi se sia necessaria utile e da garantire una definizione di terzietà degli accompagnatori sociali che terzietà non è perché vengono individuati attraverso un mandato delle pubbliche amministrazioni esistono intanto percorsi di formazione universitari e qualifiche professionali che individuano proprio la tecnicalità del percorso partecipativo devo essere molto chiaro qual è il mandato e quali sono le funzioni cioè se il mandato è non mettere in discussione l'obiettivo ma trovare le migliori forme per praticare l'obiettivo è una modalità se il percorso partecipativo può anche determinare un cambiamento dell'obiettivo e non è il caso dei programmi che hanno un finanziamento vincolato allora anche le forme di accompagnamento sociale sono diverse cito una per tutte quella sull'incineritore non si mette in discussione se si mette in discussione dove e come sono due modalità differenti di percorsi partecipativi e si traduce qui tutto un aspetto che non ho richiamato nella relazione introduttiva delle tecnicalità dei percorsi di democrazia partecipativa e di come questi abbiano prodotto nuove professioni che via via nel tempo si sono affinate e sono state riconosciute per cui le riunioni di Urban sono ad esempio delle convention annuali nelle quali vengono raccontate le esperienze di democrazia soprattutto della rigenerazione urbana e anche vengono presi in considerazione gli approcci teorici e tecnici con i quali si accede uno dei primi esempi di agenda dei percorsi di partecipazione in ambito urbanistico fu redatto dal professore Bobbio e richiamava intorno all'inizio degli anni 2000 18 esempi di progettazione partecipata spero di aver risposto sulla parte riferita ai laboratori di urbanistica dal punto di vista dell'esperienza dell'audit che io sappia noi abbiamo fatto un tentativo timidissimo un consiglio comunale a Torino c'è Ettore Koch che che ne è testimone dove a fronte di una retorica un retorico assenso dell'amministrazione sulla necessità di fare quel percorso abbiamo incrociato le obiezioni che richiamava prima a Mariangela Rosolen ad esempio tutta una questione relativa alla possibilità di accesso agli atti o non accesso agli atti soprattutto quando i contratti stipulati erano stipulati con una giurisdizione diversa da quella italiana la famosa corte di di Londra sui derivati e quindi la nostra esperienza è un'esperienza che non credo possa essere citata particolarmente ad esempio se non per la buona volontà di ricerca che ci abbiamo messo e quindi la prosecuzione del lavoro di debito mi pare significativa importante ma davvero ancora molto di nicchia esperienze più avanzate ma le conoscerete perché in assemblea 21 so che sono state discusse sono quelle che sono state avviate a Napoli dove anche il tema dell'accesso agli atti e della ricognizione di tutta la normativa di tutta la contrattualistica è stata favorita dal fatto che a presiedere quel percorso c'era un ex magistrato e quindi con un'autorevolezza che gli ha consentito anche forse di poter reagire alle obiezioni prudenziali o semplicemente alla indisponibilità dei tecnici dei settori finanziari della pubblica amministrazione quindi non so dire invece quello che riguarda la possibilità di apporre la firma digitale perché credo che debba essere prescritto all'interno dello strumento statutario quando lo strumento statutario definisce petizione a deliberazione di iniziativa popolare e che se non lo è debba essere necessariamente integrata la norma per poter lo accedere a meno che non ci sia una derivazione di una normativa più generale questo può essere e che debba allora trovare pratica applicazione anche negli strumenti di partecipazione popolare però non conosco abbastanza l'argomento Laura intervieni aspetta che gestisco no perché combinazione l'ho visto l'altra sera e nel regolamento 297 di Torino sugli strumenti partecipativi la delibera che ha introdotto in quel regolamento strumento del referendum propositivo ha previsto addirittura il voto telematico anche in caso di referendum in virtù di un'altra delibera che avevano fatto con cui avevano aggiornato presumibilmente lo statuto adesso se non ricordo male e quindi lo hanno aggiornato il regolamento in conseguenza di quell'altra precedente però sembra tutto legato a decisioni comunali io non ho trovato dovrei risalire ulteriormente però non ho trovato in quello dei riferimenti non conosco in dettaglio il regolamento però l'esperienza recente quella della campagna per la delibera di iniziativa comunale sui vuoti sui alloggi sfitti vuoti a rendere è risultato mi pare di aver capito che è inserito nel regolamento l'obbligatorietà di mettere a disposizione la piattaforma per la firma digitale dopodiché fra il fatto che questo sia inserito e il fatto ci abbiamo messo più di un mese insistendo perché il comune attivasse la piattaforma quindi di quattro mesi teorici sono stati tre mesi scarsi quindi e di nuovo faccio un'ultima battuta è un po' il discorso fra che tu facevi all'inizio fra quanto c'è di reale interesse da parte delle istituzioni della nostra istituzione parliamo di quella attivare dei meccanismi quanto ne abbiano bisogno per legittimare le loro scelte o quanto pensino di non averne neanche bisogno io propendo sono meno ottimista di te propendo per ipotesi che salvo qualche eccezione di qualche consigliere o anche di qualche assessore la tendenza generale sia che pensano di non averne bisogno e che toccherebbe a noi ogni tanto venire in mente che forse ne hanno bisogno grazie solo perché c'è un momento di vuoto niente di importante è vero nelle domande che lei ha fatto ha chiesto beh no ha chiesto cosa ne pensasse anche delle consulte no quindi aspetto che lei intervenga nel vuoto dico solo che nella consulta attuale in cui faccio parte l'ambiente verde ho notato che la consulta non interessa né i consiglieri né alla giunta eccetera eccetera noi scriviamo 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 ma rimangono lì eccetera eccetera cioè per dire è chiaro che per far interessare questo devo intervenire sia in certo modo della nostra azione sia cominciare certi contatti con certi consiglieri perché è uno strumento a servizio dei consiglieri ma i consiglieri non lo usano cioè c'è un po' questo fatto qua allora o i consiglieri manifestino perché è anche giusto un'indifferenza non fiducia nella composizione della consulta ad esempio non hanno fiducia venga fuori perché effettivamente può essere sono stati nominati i membri della consulta eccetera in questo momento sono i rappresentanti delle varie associazioni riguardanti l'ambiente e il verde associazioni riconosciute dal comune e così se vogliono fanno parte poi noi teniamo la riunione aperta anche i comitati i rappresentanti i comitati che ufficialmente non sono riconosciuti però possono dire poi nel momento della votazione votiamo solo noi ovviamente eccetera però ci sono due consulte nell'esperienza ne ho avuto qualche anno ad esempio nella consulta ma quindi sia chiaro non faccio paragoni politici da una volta però nella consulta passata quella del 5 stelle che era così c'è stato un momento di un po' più di no no non volevo dire aspetta un po' più di attenzione ma però poi ha preso anche una piega loro hanno dato più valore a certe commissioni nate no ad esempio quella che ha riguardato la soluzione dell'ex zoo no c'era tutta una commissione di zona eccetera eccetera è stata seguita partecipavano gli assessori e così via e ha portato dei risultati via dire no ma è stato fatto un po' particolare non per un regolamento allora volevo dire il problema dei rapporti che ci sono ad esempio nell'esperienza ancora precedente noi sempre avevamo dei rapporti con i tecnici importanti no che ti facevano interloquire prima che un progetto fosse definito al momento del non del lavoro del suo posto e quello era importante infatti intervenivi allora ti sentivano eccetera eccetera perché poi se tu intervieni quando ti arriva il progetto definitivo tutti sappiamo che hai esperienza ma lì questo funzionava per i rapporti che avevano instaurato con i tecnici c'è stato un momento tanto per dire sempre che l'assessore no scusate non l'assessore il responsabile della commissione una delle commissioni ci ha messo uno stop a non avere rapporti con i tecnici per esempio ci succedono un po' tutte queste cose qua che dipendono un po' dei regolamenti ma molto anche dal rapporto l'obiettivo delle varie persone nei vari ruoli ecco grazie Pier Giorgio puoi smutare il microfono grazie buonasera sono Pier Giorgio Pier Giorgio Tenani sto partecipando con molto molto interesse alla serata di 15 giorni fa così come a questa io in questo periodo della mia vita come Ferdinando che ha appena parlato faccio parte della consulta Ambiente Verde e da due anni e mezzo fra parentesi ne sono anche il presidente e volevo soltanto portare in maniera ulteriore se è possibile non so se è un contributo comunque quella che è la nostra esperienza che purtroppo non posso definire come dire accattivante o positiva abbiamo molta difficoltà proprio perché ci stiamo ponendo la domanda molto seria e ce la stiamo ponendo in maniera forte se la consulta le consulte parlando ne parlo in particolare per quello che riguarda la nostra esperienza abbiano motivo di essere di esistere fondamentalmente una battuta con questa consigliatura noi non siamo stati richiesti di un parere la delibera istitutiva prevede che sui temi di carattere ambientale noi di fatto si esprima un parere che dovrebbe essere oltretutto legato alla delibera qual è la fregatura se mi passate il termine chiedo scusa che non ci sono state delibere di consiglio di fatto ma solo delibere di giunta cosicché questo apre anche un altro problema che neanche il consiglio il consiglio comunale delle volte o spesso almeno per quello che ci riguarda viene coinvolto dopodiché come ce la siamo come abbiamo cercato di dato che tutti noi che ne facciamo parte abbiamo scelto di spendere energie e tempo su questa cosa perché credevamo crediamo vogliamo credere anche per il futuro che questo possa essere uno strumento che dà ai cittadini delle possibilità tra virgolette in più anche in più come singole associazioni o come coordinamento di associazioni e quindi in questo senso noi abbiamo comunque cercato e ci siamo proposti in tutte le occasioni possibili sia con documenti e sia con richieste di audizioni nelle commissioni consigliari di competenza per presentare spesso e volentieri un altro punto di vista sulle cose che la giunta che l'amministrazione propone nella fattispecie che ci riguarda tra virgolette quindi in questo senso se vogliamo dire così noi abbiamo trovato una motivazione che per quanto non sempre e non spesso porti a casa dei risultati detto in parole molto semplici spesso e volentieri non otteniamo risposte e soprattutto non otteniamo una modifica dei provvedimenti rispetto alle alle osservazioni alle criticità o alle proposte che facciamo in questo in questo senso però riteniamo che questo rimanga uno strumento una possibilità almeno per far sentire delle voci tra virgolette diverse in quella sede e anche per costruire lo diceva Ferdinando un attimo fa anche dei rapporti all'interno del consiglio comunale o della macchina diciamo così tecnica del comune per poter ripeto far valere o far presente una serie di situazioni vengo anche al motivo per cui sto seguendo con molto interesse quello che la Eleonora Artesio ci racconta e ci dice oltretutto la ringrazio per la sua competenza per la sua messa a disposizione della sua competenza che non è cosa che si trova veramente sempre e dappertutto noi ci stiamo chiedendo però e questa è un po' la domanda che ci stiamo facendo che io metto all'attenzione di questa di voi tutti e tutti sostanzialmente cioè al di là del merito delle questioni sulle quali ci sarebbe da discutere a lungo ripeto sul fatto che per esempio noi non riusciamo quasi mai a partecipare il quasi mai un enfemismo non riusciamo di fatto mai a partecipare nella fase pre abbiamo delle proposte o delle delle iniziative o delle progettualità che ci vengono proposte già fatte finite per cui abbiamo tutta una serie di difficoltà anche ad ottenere le informazioni noi siamo arrivati al punto che ormai facciamo accesso agli atti costante anche senza ottenere delle volte soddisfazione anche in questo senso proprio perché non riusciamo quasi mai ad avere le informazioni prima in maniera da poter fare delle osservazioni che abbiano senso e che siano puntuali fondamentalmente quindi questa è una questione di merito che però diventa poi di sostanza su un piano più ampio quindi noi una delle domande che ci stiamo facendo che vorrei portare qui questa sera e se fosse possibile mi permetto di chiedere anche un momento di incontro successivo proprio per affrontarla nel dettaglio ed è quali possono essere perché alcuni consiglieri anche della stessa maggioranza si stanno ponendo questo tipo di problematica e si sta ragionando su quali possono essere gli strumenti però in forma strutturale fondamentalmente quindi non si tratta di andare a caccia della benevolenza di un assessore o di un consigliere più attento più sensibile che abbia una visione insomma più seria della politica se mi permettete questa battuta qua si tratta di darci degli strumenti perché strutturalmente in qualche maniera lo dico male consentitemi l'amministrazione sia costretta a dare udienza ai cittadini nelle varie forme perché la consulta è una ma i coordinamenti i comitati i associazioni insomma ovviamente noi stiamo trovando molta molta difficoltà e dato che vorremmo non come è stato detto non perdere la speranza continuare a credere che questo sia una cosa che si può portare a casa al bene in parte per noi sarebbe molto importante capire ragionare riflettere farsi aiutare fondamentalmente anche per cercare di individuare quali possono essere gli strumenti da portare all'attenzione del consiglio comunale a Torino perché questo possa in qualche maniera avvenire grazie della disponibilità riprendo la questione relativa alle consulte io credo che ci siano state negli anni delle successive costruzioni di strumenti consultivi indipendentemente indipendentemente dal mandato puntuale che ha motivato la costituzione delle consulte cerco di spiegare meglio nelle esperienze iniziali le consulte erano soprattutto dei momenti di organizzazione e di relazione con le istituzioni costituite sulla base delle caratteristiche dei soggetti che compongono una comunità o una città e che sono portatori di specificità la consulta comunale femminile nasce sulla questione della differenza di genere e del fatto che le politiche urbane come tutte le politiche non possono essere necessariamente neutre perché la neutralità non corrisponde alla realtà della vita delle persone e quindi avere dei momenti come quelli della rappresentanza delle organizzazioni di genere consentiva alla città di comprendere nella definizione delle proprie priorità politiche l'elemento delle differenze e di tarare il percorso decisionale su questi aspetti quindi l'origine dei momenti delle consulte era un'origine che nasceva dalle caratteristiche della composizione sociale del territorio c'è stato il momento della consulta comunale femminile che vive tuttora c'è stato il momento della consulta dell'immigrazione dove erano rappresentate le diverse organizzazioni dei gruppi in quella fase di maggiore provenienza nei flussi migratori c'è stata la consulta sulla disabilità che poi ha avuto una sua evoluzione attraverso l'individuazione del disability manager quindi le consulte iniziali avevano questa relazione col tema delle differenze nelle composizioni sociali di un territorio nel tempo si è costruita un'altra modalità dove consulta diventa consultazione o mancata consultazione per cui alle organizzazioni di rappresentanza tematica viene chiesto senza poi rispettare viene chiesto di essere elementi di orientamento e di verifica delle politiche che afferiscono a quelle determinate tematiche in questo quadro e per quello che dico che c'è un affollamento di strumenti e bisogna un po' orientarsi nella tipologia della partecipazione per individuare quella che può essere rispetto al mandato che ogni associazione può avere quella che può essere più affine si sono nel tempo poi costruiti altri momenti alcuni con delle caratteristiche quasi didattiche di educazione alla democrazia vedi i consigli comunali dei ragazzi cioè ci sono state nel tempo delle costellazioni che hanno fatto immaginare un ampliamento della partecipazione della relazione con le istituzioni ma che nascevano su presupposti diversi e con mandati diversi quindi una consulta che nasce col mandato di essere organo di interpello e di proposta da parte di un consiglio di una giunta su alcune politiche pubbliche e vedi la consulta ambiente ha quella finalità e veniva chiesto nell'intervento esterno come fare a trovare strumenti che rendano vincolante la responsabilità degli amministratori nel consultare quelli che hanno deciso di istituire come soggetti da consultare perché poi il paradosso è esattamente questo istituisci un organo perché vuoi avere una relazione di consultazione e poi non lo consulti quindi siamo però devo dire che le consulte hanno genesi molto diverse e avevano aspettative molto differenti alcune anche quelle come quella della consulte femminili nel tempo hanno perso sicuramente quel significato di rappresentanza di genere che avevano all'origine molto spesso viene rimproverato le consulte di essere organismi che sono datati per la formazione nel tempo di quelle associazioni e si affiancano altri strumenti adesso ad esempio è molto contemporaneo il ricorso agli osservatori gli osservatori sulla salute gli osservatori su quindi di nuovo questioni tematiche sulle quali chiami a raccolta organizzazioni che hanno per loro vocazione un mandato su quelle determinate materie che molto spesso esercitano un ruolo di sollecitazione di proposizione perché poi gli osservatori normalmente al proprio interno coinvolgono anche delle competenze tecnico-professionali quindi molto spesso è anche utile all'interlocuzione istituzionale avere quei report quelle relazioni quei rapporti ma è una costellazione sarebbe interessante ragionare e fare il punto su questa costellazione perché hanno mandati molto diversi non ho tantissime esperienze due anni che sono in consiglio di circoscrizione la sensazione che però ho maturato è molto vicina a quella la sensazione che ho maturato in questi mesi dopo il primo periodo di inserimento per capire dove ero finito però è molto vicina all'intervento che ha fatto il presidente della consulta cioè tutte le volte che si cerca di intervenire anche cercando di portare delle competenze la sensazione è che si disturba un processo che invece avrebbe tanto piacere di avere uno svolgimento suo autonomo senza l'influenza di qualcuno che faccia perdere del tempo lo posso anche comprendere perché questi processi non sono facili però la cittadinanza esprime spesso delle competenze importanti delle sensibilità importanti che potrebbero arricchire il contributo che alcuni consiglieri o assessori portano all'interno della giunta o del consiglio del comune e invece si perdono penso delle occasioni per poi non credo fare più in fretta perché se ci fosse almeno la motivazione del fare più in fretta forse ci sarebbe almeno una motivazione delle volte probabilmente è solamente un procedere in maggiore autonomia e quindi la sensazione di chi si infila all'interno di questi meccanismi e di dare fastidio invece di essere un contributore ecco questa è la mia esperienza la macchietta dei conti comunali però volevo fare una proposta ho notato che le circoscrizioni discutono ogni anno il bilancio preventivo del comune di Torino non viene mai messo all'ordine del giorno il bilancio consuntivo mentre nel consiglio comunale c'è una pseudo discussione che l'onora sa diciamo sempre di profilo abbastanza il primo anno è stato ancora peggio perché c'era già la campagna elettorale le opposizioni non c'erano quasi nella maggioranza si sono dette poche cose e molto modeste però è molto negativo il fatto che le circoscrizioni non siano chiamate non dico entrare particolarmente nel merito dei conti consuntivi ma almeno a confrontarsi perché sono quelli i conti cioè il preventivo è una cosa ma in genere lo scostamento tra i preventivi e i consuntivi è molto elevato quindi e poi il consuntivo con le relazioni che fanno gli amministratori se uno le legge capisce le tematiche se poi ci aggiunge anche i pareri della Corte dei Conti che da anni monitorano la crisi dei conti di Torino e adesso ultimamente a febbraio hanno fatto un'altra deliberazione in cui hanno segnalato le cose che sappiamo anche noi cioè che la capacità di riscossione coattiva del Comune di Torino è praticamente inesistente e di lì nasce il germe della crisi fondamentale quindi se c'è un consigliere di circoscrizioni in questo clima di democrazia diciamo casuale io suggerirei di proporre nella tua circoscrizione che venga messo il prossimo consuntivo parliamo di maggio dell'anno prossimo ma che lo discutiate io mi sono iscritto tra l'altro come strumento di partecipazione e anche la possibilità del cittadino di iscriversi in qualche commissione del quartiere dove abita e dato che io abito a San Paolo mi sono iscritto alla prima commissione che è quella di bilancio dopodiché finora non sono mai andato perché parlano sempre di concessione di contributi al terzo al quarto al quinto e a me quella roba lì non è che interessi più di tanto concessioni locali però quando ci sarà la discussione del prossimo preventivo io mi permetterò di proporre naturalmente non servirà niente ma proporre che discutano anche dei consuntivi forse non è previsto per regolamento del decentramento vero? non è previsto come regolamento del decentramento dopodiché inizio la proposta fa se la proposta è per esperienza dico in attesa che si applichino certi regolamenti altre cose tutto quello che viene detto in ogni situazione valutare qual è lo strumento più importante che manca in quel momento e chiederlo eccetera al di là di tutto credo che ognuno di di noi che è ancora attivo come cittadino partecipante nelle commissioni quella la cosa da chiedere sempre è l'informazione per i cittadini perché ci accorgiamo quando arriviamo nel posto facciamo una commissione ci accorgiamo che la gente che arriva l'ultimo esempio tanto per farne uno l'ultima commissione sullo ZTL in Campidoglio cittadini pochi ma a parte anche solo quei pochi dagli interventi si è capito che l'informazione di una cosa che la città ha preso decisioni non so tanto tempo fa prima di attuarla eccetera eccetera quando arriva lì il cittadino dice ma perché questa cosa cade dalle nuvole per dire adesso minimizzo un po' semplifico però il problema è essenziale poi gli strumenti di partecipazione sono tanti ma quello dell'informazione fare lo sforzo qualunque modo di chiedere informazione come lui chiede adesso vorrei chiedere informazione sul consuntivo giustamente cioè chiedere sempre informazione e dare la mano a tutti i cittadini che lo vogliono fare aiutiamoci su questo passare tutto ciò che è possibile di informazione sulle attività a vari livelli della circoscrizione in su grazie grazie mi pare che ci siano stati dei commenti puntuali agli strumenti che sono stati illustrati e anche l'accompagnamento di quel giusto quella giusta dose di scetticismo che deriva dall'esperienza di tutte e di tutti sicuramente una delle questioni che non sono state richiamate nella mia introduzione riguardava le modalità di partecipazione diretta intesa come presenza ai momenti aperti al pubblico della vita delle istituzioni sui quali ci sarebbe molto da dire e molto da riformare in relazione alla possibilità di costruire quei momenti come momenti reali di partecipazione faccio l'esempio le commissioni comunali tematiche sono delle commissioni alle quali si può assistere oppure si può intervenire nel momento in cui si è stati proponenti di una determinata questione di un determinato argomento come tali accolti e accettati dall'ufficio di presidenza della commissione e allora in quel caso si è messi nelle condizioni di poter intervenire quindi certamente poi Maria Angela Rosolene insieme a tanti altri è una testimone e una militante di tutte le commissioni comunali che hanno a che vedere con le iniziative proposte quindi conosce molto bene certamente il momento delle commissioni è un momento ragionevolmente interessante perché è il momento caldo della relazione non della decisione non della decisione questo quindi è un altro scenario quello che si apre rispetto alla tematica delle commissioni negli interventi che si sono svolti che rimandavano una richiesta ulteriore ai promotori c'era proprio quella di riflettere io non so se con una qualche valutazione di competenza anche più giuridica di riflettere su come rendere vincolanti alcuni passaggi che oggi sono facoltativi e quindi questo potrebbe essere un lavoro di fino un lavoro appunto non di riunione non di momento comune come questo un lavoro di fino su cui mettere mano io rispetto alla discussione che si è svolta ho colto questi questi rimandi appuntamento il 18 settembre ricordatevelo poi ve lo ricorderemo anche noi in cui non solo riprenderemo gli argomenti che abbiamo affrontato sia pure più sinteticamente in queste due nostre riunioni ma soprattutto vedremo e lì avremo anche l'aiuto di di Marco Bersani che penso che sia un personaggio noto ormai tra tutti noi che della vita del movimento di base sia di ATTAC che del Comitato Acqua che gli altri anche dello stesso Comitato del Debito è stato protagonista in tutti questi anni parteciperà speriamo personalmente che possa venire a Torino altrimenti parteciperà da lontano ma comunque riprenderemo questi discorsi soprattutto analizzeremo vedremo come la costruzione del movimento la costruzione del movimento di base sembra perfino sbagliato usare questi termini lo sviluppo forse meglio dire dei movimenti di base possa trovare delle risposte che aiutino la loro evoluzione piuttosto che mortificare le istanze che magari in maniera anche un po' disordinata e primitiva si presentano c'è questa esperienza della confluenza per esempio che stiamo si sta cercando di realizzare nelle zone dell'Italia del nord mi pare prevalentemente sui temi ambientali che dà il segnale di voler arrivare a una confluenza appunto di movimenti che li rafforzino non esaltando valorizzando la singolarità di ciascun movimento ma dando trovando i legami che assieme ad altri movimenti rafforzano con una visione più organica più generale nella quale lo stesso movimento trova più ampio spazio per il suo sviluppo vediamo insomma come come potremo se riusciremo dare dare un contributo anche sotto questo aspetto il 18 settembre prossimo qui e per ora io ringrazio tutti voi ringrazio in modo particolare Eleonora grazie 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 Grazie.